inizio ufficialmente oggi ragazzi la rivoluzione fiorentina che era già annunciata dalla fine di quest'anno insomma dalla sconfitta della partita di conference contro l'Olympiakos e quindi dal relativo cambio allenatore sapevamo tutti che sarebbe stata una rivoluzione quest'estate voglio dedicare appunto un video proprio a parte per questi tre giocatori per Duncan, Castrovilli e Buonaventura perché tutti hanno lasciato qualcosa a Firenze hanno dato qualcosa a Firenze ed è giusto fare un piccolo video dedicato tutti insieme ovviamente per dargli un arrivederci insomma perché comunque bisogna ringraziarli chi per un motivo che per un altro per quello che hanno dato alla Fiorentina voglio partire da Duncan poi piano piano si va fino a Jack Jack me lo voglio lasciare per ultimo forse anche per importanza per quello che ha fatto per Firenze Duncan ragazzi arrivò nel 2020 se non sbaglio in una finestra di mercato se non vado errato forse addirittura con Kwame insieme a Kwame anche si fecero due o tre colpi insieme non mi ricordo se era gennaio oppure restate forse era gennaio fatemi sapere se ve lo ricordate voi ora mi sfugge devo essere onesto però mi ricordo molto bene che dal Sassuolo si sborsò 15 milioni e me lo ricordo quel Duncan del Sassuolo quel Duncan che eravamo ancora una Fiorentina proprio tremenda comunque che sperava di salvarsi alla fine dell'anno ma mi ricordo che quel Duncan che prendemmo dal Sassuolo era un giocatore che ci faceva sperare ci faceva sperare in un centrocampo solido forte il box to box che a Firenze mancava e che aveva bisogno e quello che alla fine si è dimostrato non per tutti questi quattro anni ma per le partite che voleva lui chiaramente che giocava bene un po' l'avevamo rivisto più che altro la sua parentesi a Firenze è stata a parte un prestito nel mezzo a Cagliari chi più chi meno alla fine lui il titolare quasi tutti gli anni il suo spazio diciamo da titolare se lo è ritagliato non sempre poi lo sappiamo soprattutto anche con l'italiano ci sono state tantissime rotazioni quindi la titolarità è stata veramente una roba che anche per chi era titolarissimo era un po' un'utopia anche per ovvi motivi anche perché si giocava una volta ogni tre giorni Danca ragazzi è sempre stato quel giocatore che io ho sempre sperato di vedere sempre 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 al 100% perché era quel giocatore che se te vedevi al 100% davvero sembrava di un'altra categoria io l'ho sempre visto un centrocampista quasi di un'altra categoria quando veramente ci aveva voglia e quando faceva quella partita e proprio correva per tutti a fare anche l'interditore un dribbling clamoroso per un centrocampista comunque fisico come lui una tecnica comunque ragazzi con quel sinistro che molte volte ci ha fatto sperare di vedere quel centrocampista titolarissimo che Firenze avrebbe sempre voluto vedere e invece però lui è sempre stato un discorso di discontinuità che non ci ha mai permesso di vedere appunto quel giocatore che tutti avremmo voluto vedere personalmente la fine del suo contratto non mi tange più di tanto proprio perché comunque era uno di quei giocatori che anche con l'avanzamento dell'età andava per forza cambiato e per il mercato non insomma ti avrebbe portato poi niente forse forse esagerando 4-5 milioni ma proprio proprio per proprio se quindi Duncan ragazzi è stato un un elemento che io personalmente ma penso anche diversi di voi hanno sempre sperato di vedere al 100% e molte volte non ci è mai riuscito è stato veramente un peccato un'occasione persa soprattutto anche per quanto si è pagato poi voglio passare a Castro Castro ragazzi Castro è una una pagina un po' particolare di questa Fiorentina perché mi ricordo che venne acquistato dal Bari addirittura nel 2017 perché sì mi ricordo era il 2017 pagato o niente forse 2 milioni un milione e mezzo esattamente non mi ricordo ma proprio niente veramente zero giovane veramente promettente che lo mandammo due anni se non sbaglio alla Cremonese in prestito e fece vedere delle cose incredibili comunque molto 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 promettente ritornò e mi ricordo ragazzi me la ricordo io quella partita del 2019 la prima partita se non sbaglio del campionato contro il Napoli contro il Napoli a Firenze e tutti si guardò e si disse Castrovilli titolare particolare come scelta poi questo giocatore praticamente sì che aveva fatto due anni alla Cremonese che aveva dimostrato tanti grandi e belle e aveva fatto vedere tante belle cose ma perché cioè nel senso abbiamo anche altri e invece mi ricordo che quella partita ragazzi parte il migliore in campo senza se e senza ma ma tutti si disse ma chi si è trovato io me lo ricordo me lo ricordo benissimo fu io anche il primo a dirlo ma chi si è trovato questo ragazzino di 22 anni perché all'epoca ne aveva 22 che aveva monopolizzato il centrocampo e aveva fatto veramente girare la testa anche ai centrocampisti del del Napoli era poco la partita non mi ricordo probabilmente si è persa però non mi ricordo me l'è andata a finire però mi ricordo veramente un giocatore incredibile e da lì tutti si è sperato di rivedere una bandiera perché quello è stato Castrovilli per Firenze da quando lo abbiamo visto quel giorno lì si è sperato tutti di vedere una bandiera una bandiera che a Firenze ormai manca da veramente tantissimo tempo e che tutti veramente un po' ci si era sperato da quella partita lì e invece sfortunatamente molto probabilmente anche per in realtà quasi totalmente per problemi di infortuni molto lunghi ovviamente Castrovilli non è mai stato quello che tutti avremmo voluto vedere perché poi alla fine nell'era italiano lo abbiamo visto nella parte finale del primo anno in grande spolvero e poi tante piccole parentesi prima di problemi acciacchi tante piccole cose che non hanno mai permesso di fargli esprimere il suo vero potenziale quello che avevamo visto quella famosa prima partita del 2019 io ragazzi Castro appunto è quello che mi dispiace di più ma anche da un punto di vista affettivo perché vi ripeto è cioè sette anni che a Firenze ufficialmente poi in realtà ne ha giocati cinque per quanto poi ne ha giocati perché poi anche l'anno scorso non ha giocato mai ha giocato solo le ultime se non sbaglio su quattro cinque partite una roba del genere ma ha fatto cinque presenze esagerando diverse delle quali dal subentrato per il discorso appunto della cessione dell'estate ve l'ho ricordata al bar mount che poi alla fine si cedette a 12 milioni ma non superò le visite mediche quindi rispedito a Firenze proprio a calcio in culo essenzialmente perché noi si voleva tirare una bidonata al bar mount con un giocatore con un ginocchio fracassato chiaramente loro mica coglioni Castro non superò le visite mediche e ritornò appunto a Firenze peccato perché da lì poi vabbè non giocò tutto l'anno vari motivi soprattutto fisici peccato perché era un giocatore che io ci avevo sempre tanto sperato poi molte volte appunto quando tutti noi si guardava la formazione si faceva le possibili formazioni dell'anno prossimo ah ragazzi come si giocherà la Fiorentina centro campo così Castrovilli 99 su 100 non era mai preso in considerazione perché un giocatore che per problemi fisici era talmente discontinuo un conto magari era Duncan che piccoli acciacchi ma niente di che Duncan era proprio discontinuo proprio a livello di prestazioni cioè c'era le prestazioni faceva da 4 e mezzo 5 e poi a caso la giornata dopo magari faceva una partita da 8 ok Castrovilli invece sfortunatamente 5 giornate lo vedevi giocare poi lo vedevi sparire per altre 3-4 poi lo vedevi rigiocare altre 10 giornate e poi infortuna alla gamba che lo teneva fuori mesi quindi non hai mai visto un giocatore del genere al pieno delle sue potenzialità sfortunatamente per te perché avrebbe assolutamente alzato il livello della squadra soprattutto anche in questi ultimi anni che abbiamo avuto dei centrocampi levato qualche elemento abbastanza scandalosi soprattutto per la nostra storia più che altro quindi Castro è stata veramente un'occasione persa e Palladino era uno di quelli in realtà che lo voleva Palladino non era uno di quelli che avrebbe voluto che lui rimanesse a Firenze ovviamente lui ha altre idee io rispetto rispetto le idee di Castrovilli non mi interessa neanche di fare il discorso di dire ah se l'era uno che teneva a Firenze allora rinnovava il contratto per farci guadagnare dei soldi non gliene frega un cazzo ragazzi non gliene cioè è giusto così anche perché alla fine noi lo volevamo lo volevamo proprio tirare in culo darlo via proprio scacare per farci i soldi noi Mary Sordy quest'estate col Bar Mount e poi alla fine lui è ritornato indietro e si è fatto tutto un anno con noi senza mai giocare e noi lo abbiamo sempre relegato alla fine a giocatore mai considerato anche per problemi fisici ovviamente quindi è logico che io personalmente se avessi subito una roba del genere cioè non mi riterrei un giocatore contento ecco diciamo di rimanere in una realtà del genere per come la vedo io poi ognuno ha la sua la sua visione quindi io sinceramente mi dispiace più che altro perché Paladino l'avrebbe voluto tenere e perché tu ci avresti monetizzato nel caso appunto di una possibile cessione che comunque sono soldi che a te ti facevano comodo per il mercato però così non è stato una mancata bandiera io Castrovilli la considererò sempre una mancata bandiera ecco una bandiera che poteva essere per la Fiorentina quel giocatore che magari non abbiamo veramente da tantissimi anni e che non è mai stato per tanti motivi e poi per ultimo ragazzi ho voluto ritagliare anche questo spazio per Buonaventura Buonaventura ragazzi che arrivò a Firenze anche lui nel 2020 se non sbaglio in una Fiorentina anche lì tremenda senza qualità senza niente e io me li ricordo i primi tempi alla Fiorentina che si pesticciava i piedi con Ribery me li ricordo me li ricordo bene i primi tempi della Fiorentina Buonaventura Ribery in campo quando si giocava con il 3-5-2 se non sbaglio con Ribery punta insieme a Chiesa che poi nessuno dei due erano punte e Ribery aveva la possibilità di svariare in tutto il campo ma così facendo si pesticciava i piedi con Buonaventura e quindi Buonaventura in quei periodi mi ricordo era quasi considerato un panchinaro cioè mi ricordo che noi si diceva no deve giocare chiaramente Ribery però nel sistema di gioco che all'epoca Iachini se non sbaglio metteva in campo sistema di gioco insomma la difesa oltranza di Iachini dell'epoca poi di Montella anche poi di Prandelli dopo insomma senza andare troppo avanti però ci fu quel periodo veramente ragazzi che mi ricordo Buonaventura veniva quasi considerato un panchinario senza accorgersi in realtà senza noi ci si accorgesse che era uno dei giocatori con miglior qualità che te hai mai visto negli ultimi anni in Rosa e appunto negli anni precedenti ce ne siamo accorti ed è stato un peccato Jack è stato un peccato perché io nella finale di di quest'anno contro l'Olimpia mi dispiace veramente dirlo ma mi sono un pochino sentito tradito mi sono un pochino sentito cioè uno dei giocatori il giocatore con maggior qualità che avevo in campo che fa quel tiro in bocca al portiere al ventesimo a tu per tu senza praticamente nessun tipo di ostacolo il difensore davanti a lui che mi avrebbe magari permesso di poter vincere una coppa una coppa dopo ventitré anni che io non vedo che io non vedo anche se era solo la conference ma io avrei voluto vincerla e mi sono sentito tradito è stato un peccato perché per quello che te hai fatto per Firenze mi viene proprio quasi da parlare come se Buonaventura mi stesse guardando quello che ti hai fatto per Firenze cioè noi bisogna ringraziarti perché alla fine anche proprio a livello mero monetario non ci sei costato niente sei arrivato a Firenze nessuna pretesa niente di che veramente per un giocatore che magari meritava anche di più ecco voglio mettere la ausi meritava anche di più cioè poteva chiedere un ingaggio molto superiore cioè era un giocatore che davvero per certe partite si vedeva non era neanche da Fiorentina poi per l'età chiaramente non è che avrebbe avuto tutto questo mercato ma era un giocatore di una qualità clamorosa ragazzi Buonaventura clamorosa e noi giustamente adesso ora lui con la fine del contratto chiaramente perderemo una pedina importante perderemo una pedina importante nonostante per l'età chiaramente si va sempre più in là è giusto anche cambiare sotto questo aspetto sotto questo punto di vista poi Palladino era uno di quelli che in primis disse subito guardate Buonaventura cioè se lui non vuole rimanere non vuole rinnovare il contratto se la società non gli interessa rinnovare il contratto perché magari ha una certa età comincia ad arrivare a 35 anni insomma a me non cioè non è che io lo ritengo un tassello fondamentale e quindi poi da lì chiaramente le due strade ora da oggi si separano e io comunque a Jack voglio dire grazie perché in questi anni davvero è stato uno dei perni di questa Fiorentina soprattutto anche quest'anno quest'anno ragazzi è stato forse se non sbaglio l'anno migliore della carriera di Buonaventura anche a livello di numeri di gol assist fatti la prima parte di campionato ragazzi sembrava Bellingham poi preso anche dalla nazionale di Spalletti quel gol clamorosso inamichevole non mi ricordo se era un amichevole quel gol clamorosso da fuori aria a giro sotto l'incrocio cioè da quel periodo di 6-7 mesi fa che Buonaventura davvero sembrava Bellingham noi si faceva i meme così Buonaventura Bellingham Buonaventura Maggiore Bellingham ma davvero ma davvero e mi dispiace da una parte mi dispiace però però è giusto anche cambiare è giusto anche cambiare perché se no non cambierai mai cioè se te sai di rimanere appunto se te sei sempre rimasto su questo livello con questo tipo di giocatori con questi giocatori è anche giusto cambiare però entrambi cioè entrambi tutti e tre Duncan, Castrovilli e Buonaventura mi hanno lasciato qualcosa e ora che se ne vanno appunto per scadenza di contratto mi dispiace mi dispiace tanto però è giusto cambiare è giusto che questa rivoluzione sia tale anche dal cambiamento di questi elementi che chi per un motivo chi per un altro hanno avuto tanti periodi di alti e bassi in questi anni della Fiorentina nessuno è mai stato sempre 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 al top quindi forse più di tutti Buonaventura per tutti questi motivi che vi ho elencato ma vi ricordo all'inizio all'inizio quando arrivò Buonaventura lo status che aveva nella Fiorentina quindi diciamo che lui è andato molto di più in crescendo però davvero io li ringrazio tutti ma è giusto cambiare è giusto cambiare sotto questo aspetto volevo dedicare un video a tutti i loro tre perché alla fine tutti hanno lasciato qualcosa a Firenze chi più chi meno ovviamente però hanno lasciato tutti qualcosa e li ringrazio comunque a prescindere per quello che hanno fatto e anche senza magari senza andare a rimarcare il fatto che non hanno voluto prolungare il loro magari contratto per farci guadagnare quei soldini per il mercato non me ne frega niente sempre forza ragazzi fatemi sapere la vostra sotto i miei momenti ci si vede nei prossimi giorni ciao